bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video siamo ancora su clash of clans e siamo in compagnia di un mio amico ciao lui è venuto a casa mia per registrare e siamo qui su clash of clans per fare un attacco con come avete già visto 12 guaritori e 3 stregoni gli stregoni sono di scorta perché faremo uno stregone con tutti i guaritori speriamo di ok ragazzi ne ho trovato uno come stavo dicendo al mio amico io inizierei a mettere un guaritore non ci sono pure mettiamo pura 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 quindi non ci sono i guaritori ok ci stanno ci stanno dai bravi bravi con te ce la facciamo? si penso che sono stregoni solo al 3 penso se erano a livello 4 se ne voglio stare se mi chiede mi chiede sai è difficile trovarne uno debole gli denti ah gli altri è rimasto uno stregone ma è rimasto solo uno mori guaritori guarda guarda lì è immortale è immortale l'ostagone è immortale l'ostagone ma guarda è fortissimo anche il giallo 3 non è male allora ragazzi mi sa che non si fa al 100% ma neanche il 50% mi sa era debole sì però sono morti due stregoni Jedi dove sono morti? io non stavo neanche guardando gli stregoni nanananananana ma però sai già un minuto manca meno di un minuto forse il 50% glielo riscappare secondo ogni amico no chi lo so gli preferisco al 4 gli stregoni io al 3 non li posso adorare al 6 li posso adorare al 4 tra poco li faccio tanto vabbè 3 e 4 non cambia tanto no si si cambia al 4 iniziano a sparare i culmini no al 5 e nel 4 e io con l'altro profilo scusa se faccio il 53% sono uno scolato di merda probabil no mamma mia se mi andava contro il deposito le no non lo faccio il 50 no no di stare il 2% ma va vabbè ragazzi non faccio un secondo attacco perchè ho dovuto gemmarlo questo attacco per cosa? per perdere 29 trofei è bellissimo perdere 29 trofei comunque in questo video volevo fare una bella cosa la recensione del villaggio del mio amico lui è iniziato domenica non so quando lo vedrete questo video probabilmente oggi vabbè allora come vedete ho cambiato clan l'ho creato io questo clan si chiama The Lord Titan più forte sono io sì allora guardate lui è questo l'ultimo 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 scusa prima i rivolti intanto una penna è online andrea la penna l'ho quasi maxato per beh si si l'hai messo bene tanto gli mancano le mura dovrebbe chiudere il villaggio lui intanto sta giocando di fianco a me quindi lui sente tutto non c'è bisogno di vedere il video e dopo mi farà il villaggio oppure vediamo qualcun altro metti il nostro amico Lele vediamo Lele che incazza per una guerra scatenata da me eccolo qua il nostro carissimo amico Lele c'è meglio ora non è male no non è male troppo no guarda che non servono un cavolo bastardo perchè? hai i giganti al 4 prima quando tu gli hai donato quel tipo la i giganti all'1 io gli ho detto ma no gli donavo io al 4 io gli ho detto io gli dono io al 5 invece non c'è gli al 5 è vero anche a me l'hai detto bugiardo però c'è gli strugoni al 4 però la furia è l'1 io ce l'ho al 4 con la propria fila ho tutte le ho tutte le ho tutte le ce le ho tutte le 4 c'è la fulmina che la cura che la furia la furia è al 4 sono forti le valkyrie secondo te non lo so lui le potrebbe avere io ce ne avevo lui prima voleva attaccare con i pek in war i pek all'1 no però i pek sono forti ai livelli alti cioè ha già l'1 beh se metti 4 pek se vuoi fare la gowhip se vuoi fare la gowhip puoi attaccare con i pek all'1 se li devastano subito il minimo il 2 li dovresti avere il mio amico ha fatto la nuova gowhip giganti wizard e giganti al posto di golem no maia no comunque vabbè con le truppe non è messo male oggi facciamo war l'altra volta ieri lui pensava che sai la veleno lui pensava che serviva a rallentare le difese dei nemici no ha detto ma cosa sta dicendo il bello è che lui mi contrastava io gli dicevo no serve per uccidere le truppe del nemico no serve per rallentare le difese ma come l'ha visto io mi dice davidio davidio secondo te la war ragazzi allora questo babbeo qua di tanto a me ha praticamente scatenato la war e non sono tanto forti sono soltanto municipio al 9 ora fan cagare però guardate il primo questa è una merda lui con quanti draghi 8? 10 10 più 1 che ti donneranno si 11 lo devasti almeno 2 stelle gliele fai ma questo qua si questo qua è quello che devo attaccare io questo l'1 lo devo attaccare lele ma ma che facile guarda 2 ma io lo devasto ma io attacco da questo lato qua dove ci sono queste cose qua ecco le difese le fai subito ma non per quello io lo devasto perché primo le difese le alliello basso e poi ce le avvicini e poi ce le distruggo 2 in un colpo l'ultima miglia al 2 chissà cosa fa penna al 2 se attacca bene può farcela penna al 2 vabbè anche lui è draghi al 2 è già messo meglio appunto è meglio è messo meglio di un municipio al 9 ma se fai una cosa e la penna attacca il 3 lo attacchi più perché io perché attacchi meglio no io so pensano di farlo con lele lui non lo riuscirà mai ad attaccare allora provaci io non lo so voglio ne parlo dopo dai forse lo faccio con penna poi lo vediamo no lele non sa attaccare anche questo qua però è difficile da attaccare come se come ho visto hanno tutti i draghi al 1 il municipio al 9 dovrebbero avere al 4 comunque fai visita all'ultimo dell'altra squadra aspetta comunque no questo qua sarebbe da attaccare da di qua così distruggi la gialla difesa e era forte e devi i fulmini ma che fulmini? per questa negro no no poi perdi forse una stella gliela fai però è meglio meglio 2 cure e una furia donali un drago penna maghi archi o drago io i draghi li dono su Leon War al momento dell'attacco perchè se lui stacca e lo attaccano io non glielo do il drago infatti io non devo aspettare a chiedere il drago ma tu a chi è che ti ha dato il drago? lele? guarda se ce li avevano altri so che costano tanto 1.500.000 2.500.000 però non è tantissimo cioè io ho tipo quasi 3 milioni con il mio primo profilo sono sempre pieno di visir non so cosa farmene e fai i draghi il 3 che non municipi al 7 fai il mone all'8 devo aspettare grazie